A Palazzo Zancchi i diritti degli ultimi restano nel cassetto, vengono sanciti nello statuto e nelle delibere, vengono sbandierati ma restano a lettera morta. Il garante dei diritti dei carcerati e delle persone private e della libertà personale è stato istituito da una delibera del Consiglio Comunale di due anni fa, ma non è mai stato designato. Chi debba eleggerlo, chi debba istituirlo è un mistero, probabilmente dopo alcuni passaggi doveva essere lo stesso Consiglio Comunale o forse l'aggiunta, ma nulla è stato mai votato. Così i detenuti o chi è ristretto in regime di trattamento obbligatorio sanitario non ha alcun garante, così come non lo hanno i bambini. Dopo le dimissioni dell'ultima garante dell'infanzia, dopo l'ultimo bando pubblicato non c'è stato alcun voto e quanto è emerso durante la puntata di Malalingua di ieri sera dedicata al problema carcerario, Malalingua ha fatto un viaggio attraverso il mondo del volontariato che si sostituisce alle istituzioni. Saro Visicaro, radicale, ha denunciato l'inattività dell'amministrazione. Quante possibilità ci sono di cambiare vita per chi finisce in carcere? Chi è disposto a dare un lavoro, ammesso che ce ne sia uno per un incensurato, a chi è stato rinchiuso in una cella? Quanti diritti hanno i detenuti? Secondo un'indagine dell'Istituto di Studi Penitenziari italiani, le attività, ed in particolare quelle ad alta valenza socio-culturale, riducono le recidive dal 60 al 6%. Ma quante sono le attività culturali di formazione? Nel carcere di Gazzi c'è un progetto che mette al centro anche un teatro di recente inaugurazione e coinvolge il liceo artistico Basile. In provincia la cooperativa Il Cammino porta avanti un progetto che consente ai minori, sottoposti a provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, di realizzare un'attestata giornalistica che sarà registrata in tribunale. Il CEPAS nel carcere di Gazzi aiuta donne e uomini a percorrere strade diverse fatte di cultura e sport. L'associazione culturale Naxos Legge, coordinata dall'insegnante Fulvia Toscano, collabora da un anno con il carcere di Brucoli, con il progetto Classici Dentro, un progetto dedicato alle strategie di lettura come trattamento nel contesto di vita penitenziaria. A breve partirà la lettura condivisa che vede assieme padri detenuti e figli.